Ciao a tutti, eccomi qua di nuovo per una recensione, non di un trailer ma di un film vero e proprio. Finalmente, dopo un po' di tempo, ho preso mia moglie e eravamo gasati come delle ponghe, siamo andati al cinema a vedere un nuovo film di Matthew Vaughn. Matthew Vaughn. Cioè, Vaughn è il regista di X-Men all'inizio, di Kick-Ass, doveva anche essere il regista ipoteticamente dei nuovi episodi del nuovo universo cinematico di Guerra Stellari. Quindi, dopo che ho visto questo film, non lo dico in maniera cattiva, però credo che sia meglio che lui non faccia parte di questo mondo a me carissimo di Guerra Stellari, perché è un regista molto particolare che non si addice a quel tipo di mondo. Comunque, chiuso questa piccola parentesi, vengo a parlare di questo film. Allora, immaginate un attimo, chiudete gli occhi, accendete un attimo un po' di musica classica e ascoltate le mie parole, guardatemi io, che immaginatevi un po' questa situazione. Immaginatevi James Bond che in un barrettino beve una bibita, una tassone, una spuma al cedro insieme a Tarantino e si divertono a raccontare questa cosa, no? E insieme la sera vanno a casa, piedi sul divano, calzettini puzzolenti e si guardano. Che cosa salta fuori? Kingsman, esattamente. È questo mix di roba. James Bond, Quentin Tarantino, che secondo me, quando ha visto quel topin, gli è venuto un gas, gli è venuto un pelo dritto nel petto che ha detto, perché non ho fatto io questo film? Sotto Dio! Perché è proprio una roba, una roba, una roba di un Tarantino. Io Tarantino lo amo come amo poche persone nel mondo che non conosco. Ma qui Matthew Vaughn è riuscito a emulare Tarantino, anzi quasi, quasi ha esagerato. Quasi è riuscito a fare una parodia dello stile di Tarantino in questo film. Ma cos'è la cosa figa? Che voi, se guardate il trailer, non ve l'aspettate? Diciamo, questo qui è una roba tipo James Bond. Cioè, ho già parlato con qualcuno che va a vedere il nuovo film tipo spia e si parla di James Bond, una roba del genere. No! No! È follia pura. È una lettera d'amore prendendo per il culo James Bond, ma rispettandolo. Però ti prende in giro. Lo citano, lo citano, lo stracitano e lo ricitano. Ma non è proprio James Bond. È una roba... Immaginate questo gruppo di agenti segreti che sono molto più incasati dell'MI6 o della CIA. Cioè, questi gli fanno un culo così all'MI6 e alla CIA, capito? Questi sono ingasati come del Ponghi. Cioè... Scusate, rutto. Ah no, per un piccolo spoilerino. Hanno i nomi dei cavalieri della Tavola Rotonda. Il Bosch chiamava Artur. Michael Caine gli fa il fenomeno. Io sono Artur, no? E poi c'è L'Ancellotto e poi c'è Picco Pallino. Gli altri non me li ricordo. Ma comunque poco ancora. Loro sono una setta che si chiamano Kingsman. È una sorta di Justice League of Secret Agents. Una roba del genere. E che tra l'altro citano anche Secret Agents. Vi ricordate quella serie di TV che facevamo a dormire? Ma la cosa bella di questo film è che è un crescere. È un crescere di follia. Di follia totale. Quindi, allora, chiudiamo. La prima parte è un po' l'addestramento del novizio, no? Di questo ragazzino che alla vita è uno sfigato. È una sorta di rapper delinquente che ruba macchina. Pasolà, peppaconi, in ogni dove. E però è un figo. Logicamente, come in tutte le firme, è un figo, capito? Quindi deve avere la ribarsa verso il mondo, no? Lo prendono e gli fanno questo addestramento dureso. Incazzato da una violenza. Di una violenza psicologica. Ti mettono alla prova. Cioè Rambo lo segavano in prima elementare. Questa scuola qui. Non c'è un cazzo Rambo. Ma lui, ma lui. È questo team di mega baby fenomeni. E questa è la prima parte. Un po' l'addestramento, un po' classico, un po' visto, rivisto. In tutto questo c'è Colin Firth. Ora, Colin Firth ha fatto sempre film un po' particolari. Lui è sempre un po' il signorone. È un signorone del cinema inglese, no? Ha fatto Bridget Jones. Fa sempre questa parte un po' del vecchio, dell'aristocratico, no? È la genialata del signor Vaughn. È averlo preso, portato nel suo ruolo classico, che è l'aristocratico, il mega figo vestito divinamente da miliardi, sborantamila, miliardi, sterline di vestiti, di occhiali, di gadget super mega james mondiani. Però, però, e qui carico la molla nel sedere perché sto per dire le uniche due cose che mi permettono di andare al cinema nella mia vita, è il king delle slappe pacconi. Lui è il king delle slappe pacconi. Nessuno al mondo abbia fatto niente. Come l'ha fatto lui? C'è andato un po' vicino John Wick. John Wick. Ma non così tanto perché Henry, lui, cioè non potete capire quanto dà le slappe pacconi, come dà le slappe pacconi. Io non so chi sia il coreografo. Io credo che sia o Enzo Paolo Turchi o la Parisi perché è un po' lo stile riconosciuto. Qua non dà delle slappe pacconi. Dà le slappe pacconi. E tutto questo è, beh, cioè ci sta, no? Poi a un certo punto arriva al croceria dell'inferno delle fendazioni. E qui ricordatevi in mente quello che vi sto per dire. La scena della chiesa. La scena della chiesa. E non sto parlando della tipa che faceva forum. Sto parlando della scena della chiesa. Guardate la mia faccia. La scena della chiesa. Santo Dittino. La scena della chiesa. Qualcosa di... No, no. Giù. Io sono uno che si gasa di brutto al cinema. Ma non ho mai visto. Santo Dittino. Una scena di quel tipo lì. E credo una delle più belle scene della storia del cinema dei film d'azione. E' una roba che voi non potete capire. Dovete vederla. E' la maestria delle scene d'azione dei combattimenti degli slappi e pacconi. Slappi e pacconi 2 più... Versus 2.0. E' una roba che non potete capire. Mi immaginate, vedete che siete in discoteca e che parlate con il fenomeno della Romagna. Eh, ciao. Io mi chiamo Ulrich. Sono di... Sono di... Di fusingano, no? E ho un problema. Quando vado in disco e spegno la luce. Cioè, quando vado in disco e mi fanno girare, me ne spengo la luce. Ecco. Lui lì rappresenta questa cosa. Lui spegne la luce. Non potete capire cosa vuol dire quando lui spegne la luce. La scena della chiesa è qualcosa di orgasmico. È qualcosa che va... Dovrebbero dargli l'Oscar solo per quella cazzo di scena della chiesa. Meraviglioso. Meraviglioso. Io ho delle slappi e pacconi così. Non ho mai visto. Si tratta di quelle slappi e pacconi. Una chiesa intera che si dà un sacco di slappi e pacconi senza vita. Ma la fiera dello slappi e pacconi. Vi faccio capire la differenza. Immaginate la scena degli 88 folli di Kill Bill. Immaginate Pippo, Paperino e Pluto che guardano la scena della chiesa. Pippo, Paperino e Pluto sono gli 88 folli e guardano la scena della chiesa. C'è una roba totale. Certo, dite una roba totale. Guarda il mio dito, una roba totale. Kingsman è racchiuso lì. Ma come se... Non è che è il punto più alto. È il punto più alto ma poi questi qua si sono fatti. Tanti di quei funghite lecinogeni che si sono fatti un trip incredibile. A un certo punto sbolognano, dilaniano il vaso di Pandora. Ne succedono di ogni. Un finale da pao. Una roba, una roba che credo che anche il più malato degli malati non sarebbe riuscito a fare una roba. Guarda, andrei al cinema a vedere. Oh, Kingsman, santo di Dio, santo di Dio. Kingsman, molto santo di Dio. Il film ha anche le sue pecche, c'è da dire. Non è che è un film perfetto, non è Matrix, non è Star Wars del 1977, non è Il Signor degli Anelli. No, non è tutto questo. C'è un po' di casate, ma quello che funziona funziona talmente tanto che il resto ve lo dimenticate. Il cinema deve essere questo. Poi fate le vostre considerazioni, ma ricordate una cosa. La scena della chiesa. Santo di Dio!